Sono 40 i pazienti non vaccinati ricoverati nel reparto di malattie infettive su 68 presenti. I 7 attualmente ricoverati in terapia intensiva sono tutti anche loro non vaccinati. Mentre la pressione sugli ospedali non rallenta, i numeri dei contagi sembrano calare, anche per il minor quantitativo di tamponi effettuati rispetto al periodo delle feste natalizie. Sono 199 i pazienti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, dei quali 62 a Gela e 14 a Caltanissetta. Sono dati che si riferiscono al 16 gennaio, quindi domenica. Sono 1597 i positivi in città a Caltanissetta e 20 i ricoverati, sono tutti nisseni. 9 invece i ricoverati fuori provincia e 4404 i positivi a Gela.